Buongiorno a tutti quanti, è una giornata un po' compressa per me, ho fatto live stamattina, abbiamo fatto Super Jump Intensity seguito da Fluid, stiamo lavorando anche su un nuovo programma di challenge prossimo mese, come avete notato la mia permanenza sta triplicando sul sito Now, ma perché? Perché Now per me sta diventando un vero e proprio canale, un canale dove io investo tutto quello che conosco sull'antienvecchiamento, sul miglioramento della vita, sul miglioramento del nostro stato d'animo attraverso tanti tanti processi, non solo psicologici ma fisiologici e adesso cominciamo la guida, la guida sarà un raccolto di tanti webinar, non so, ancora non ho dato un numero specifico perché da questa guida che cosa succederà? Succederà che io comincerò a stendere capitoli, stendere capitoli per ogni tema, ho già scritto un capitolo di circa 20 pagine su digiuno ed intermettenza, ma dopo digiuno ed intermettenza c'è la crononutrizione, c'è la cronobiologia, se vogliamo dire, di come possiamo ampliare le onde, l'amplitudine, si chiama amplitude, delle onde circadiane del nostro ormonico è assolutamente il segreto della longevità, possiamo migliorare il sonno, possiamo migliorare i processi fisiologici perché lo sport ha addirittura una reazione sul nostro ormone, i nostri ormoni hanno reazione dopo lo sport, possiamo parlare della pelle, possiamo parlare veramente di altre cose, così questa guida probabilmente, non probabilmente, sicuramente diventerà il mio nonno libro, ho già scritto 8, il libro sarà il nonno libro, dove veramente andiamo oltre perché quando io faccio webinar, grazie a voi, studio tantissimo e poi ho questo cervello che prende tutto quello che ho visto nei 35 anni da questa parte di carriera e come c'è fatto, però voglio farvi vedere una cosa, io sono in questo momento 100% struccata, mi sono appena lavato i capelli perché potevano presentare questo webinar da soli se non l'avessi fatto e poi dopo devo andare in televisione, ma ho 53 anni, ok? 53 anni. Ok, ovviamente uno dice, no, ma truccati, hai gli occhiai, ma non mi sono truccata volutamente perché voglio che vedete la grana della pelle, il naso labiale, guardate la pelle, guardate l'età, l'età perché io sono il biglietto di visita di me stessa e penso che quando parlo di qualsiasi entità o chiunque che parla di qualsiasi entità dal punto di vista di benessere, secondo me si deve rappresentare. E anche un'altra cosa, ogni tanto non litigo perché sarebbe veramente esagerato dire che litigo, però ogni tanto sono chiamata di parlare di fitness nei convegni dei medici, dei esperti della nostra salute e di fronte a me, io la prima cosa che dico è che quanto di voi vi muovete tutti i giorni? Vedo la pancia, vedo le persone che fumano, vedo le persone che veramente sono fuori forma ma fanno il medico, cioè se tu sei il medico, se sei un consulente o sei un beauty trainer o sei un allenatore, tu per prima devi veramente praticare quello che predichi e io sono qui per darvi i miei segreti, quale che uso per me stessa. Parliamo anche dell'altra cosa della guida, io rimango basita, veramente basita, scusate apro qua perché fa un po' caldo, poco poco, ok. Basito che ho anche tantissimi colleghi attorno a me, tantissime, sono diversi fronti, c'è TV, c'è Superjump, c'è le persone che io conosco da tanto tempo e molti di questi colleghi hanno dieci anni meno di me, se non di più e in questi anni, chi conosco da vent'anni, chi conosco dieci anni, vedo che man mano che stiamo invecchiando mi stanno superando, cioè vedo che stanno invecchiando male, la verità è questo, stanno invecchiando male e dentro il cuor mio mi piange perché c'è Jill Cooper come amico, come amica, c'è Jill Cooper che comunque vedi quello che faccio, cioè io ogni giorno mi faccio integrazione e mi alleno e faccio pensiero positivo e positivismo forzato e sono fissato con il sonno e questo è il settimo anno che sono diventata estemia, quest'anno faccio sette anni di estemia, migliore scelta della vita proprio, c'è anti-invecchiamento per eccellenza, però potrei andare avanti e vedere le persone che non praticano, non si incuriosiscono, non guardano perché di esempio magari mi guardi e non continuano, questa è l'altra cosa che mi manda manicomio, le persone che magari hanno avuto un risultato con un integratore, magari hanno avuto un risultato con un allenamento o magari hanno avuto un risultato con una crema e poi dopo che è finito quell'integratore non continuano e il processo invecchiamento è costante, il processo di invecchiamento prosegue e il processo di invecchiamento andrà avanti come il tempo, cioè inesauribilmente va avanti come la goccia cinese, noi non possiamo fermare diciamo il tempo, ma possiamo rallentare i segni dell'invecchiamento sul nostro corpo per far sì che vivremo fisiologicamente finché i nostri telomeri non diventano di 5.000 unità, parleremo anche di telomeri in questa guida, ok, però possiamo vivere serenamente pieno di energia, dormendo bene, con la concentrazione, con la neurogenesi, così non abbiamo problemi di dimensia, con una fisicità abbastanza diciamo maneggevole, ok, godendo la vita, godendo la vita, io spero onestamente a 98 anni di essere ancora arrampicato su un albero, bailando come una pazza, magari un po' più lentamente, un po' più scricchiolamento o proprio scricchiolio, però se volendo noi possiamo scegliere di avere una discoteca con il corpo, anziché una prigione, e rimango basita nelle persone che scelgono o tramandano o procrastinano il tempo di agire, ah vabbè da domani smetterò di fumare, o da domani comincerò a allenarmi, o da domani come c'è, lo so che lo dovrei fare, no, lo devi fare, stop, perché la scelta è invecchiare, punto, e quando si invecchia si comincia a dormire male, perché perdiamo, dopo 25 anni, perdiamo la capacità di produrre colagene a sufficienza, cominciamo a perdere la massa magra, sarcopenia, perdiamo la capacità di dormire tutta la notte, cioè perdiamo la capacità di dormire serenamente tutta la notte, perdiamo la capacità di regolizzare la nostra fame, la nostra depressione, e questo fatto delle ormoni, questo fatto dei ritmi circadiani è straordinariamente importante e abbastanza fresco come scoperte, stiamo parlando di 2016, 2017, è vero, hanno studiato molto più tempo, però comincia a prendere ritmo, e spesso e volentieri, io sono circa 5-7 anni prima delle ondate di, diciamo, di moda, e da adesso, io ho cominciato a parlare dei probiotici, microbioma e prebiotici nel 2014, 2014, adesso, se facci caso, quando guardate una scuola pubblicitaria, tutti stanno parlando della flora batterica, ok, e siamo a distanza di 8 anni, ok, adesso ti sto parlando di ritmi circadiani, e adesso comincerai a sentire crononutrizione, ancora di più, digiuno e intermettenza, ho cominciato nel 2016, tanti parlano di questo intermittent fasting, digiuno e intermettenza, ma è molto di più, è molto di più, di soltanto mangiare per 8-16 o quant'altro, è molto di più, è totalmente legato a rallentare il processo di invecchiamento nel corpo, dimagrirai, sì, è facile di fare, sì, è una dieta, no, è qualcosa da applicare oggi stesso alla tua vita, sì, perché ti posso garantire, ah, intermittent fasting è facile, super facile, la cosa più bella di intermittent fasting, o digiuno e intermettenza, è facilissimo, facilissimo, perché non devi pesare niente, non, tecnicamente non devi neanche guardare quello che mangi, è già scientificamente provato, anche coloro che mangiano male, quelli che vanno a fast food e mangiano fritti e mangiano zuccheri e mangiano tutta la roba schifo a suolo, se si mettono nelle finestre di digiuno e intermettenza avranno dei benefici, ovvio, è normale, il cibo per noi è benzina, io se scelgo una benzina nutrigenomica che nutre i miei geni sarà assai meglio che non mangiarlo, però già se noi applichiamo da oggi stesso le digiuno e intermettenza della nostra vita avremo dei risultati anti invecchiamento regolatorio contro le malattie metabolici e quant'altro. Allora, la dieta non funziona, è legato sempre al problema di carestia, il nostro cervello ragiona in carestia e abbondanza, allora io vi faccio riflettere subito, quando siete più magni, in estate o in inverno? In l'estate. In estate mangiamo di meno, abbiamo meno fame e il meccanismo, noi abbiamo ritmi circadiani e ritmi stagionali, ok, ritmi circadiani sono circa un giorno, circa 24 ore, ritmi stagionali sono legati al colore Kelvin della luce, la lunghezza delle giornate, il freddo, la temperatura, la temperatura dice, manda messaggi al nostro geni di dire, oh, calma, stiamo andando verso l'inverno, farci caso, ottobre, quando cominciamo a sentire il freddo, ti parte una fame boia, ti parte quella fame creativa, quella fame che ti cominci a cercare da pomodoro con magari un po' di mozzarella, addirittura qualcosa bella, una bella insalata colorata di agosto, ad ottobre stai cercando salsiccia, formaggio sciolto, non so, la lasagna. Perché? Perché in inverno, molto interessante quando noi guardiamo il nostro, diciamo, il nostro corpo, che in inverno c'è meno cibo sugli alberi, giusto? Antabicamente non avevamo a disposizione cibo in inverno, così il nostro corpo che cosa fa? Ci fa aumentare la nostra, ci fa aumentare, scusatemi un attimo, ci fa aumentare la nostra fame per incassare più grassi, rallentando il fegato, perché il fegato è con loro o con lui è l'organo interno che ci fa depositare più grassi, così il fegato rallenta, deposita più grassi, abbiamo più fame, abbiamo a questo punto una differenza della leptina, la leptina che è la ghirlina che vanno a stimolare la fame o controllare il senso di fame, emettiamo più chili. Quando arriviamo a marzo, già in questo periodo, cominciamo a avere meno fame, facci caso, e cominciamo, il nostro fegato ha bisogno di essere pulito in primavera perché il fegato si riattiva, infatti anche nella medicina cinesa dicono di sostenere il fegato in primavera, facci caso, quali sono le cose che crescono in primavera? Carciofi, cardomariano, tarassico, tutto quello che è stimolatore epatico, che ci aiuta le funzioni epatiche per riattivarsi, produrre più bile, aumentare i peristalsi, però è anche il sole che stimola la serotonina, che si allunga, aumenta la serotonina, che aumenta il senso di sazietà e i peristalsi. A questo punto cominciamo a digerire più velocemente, incassiamo meno calorie e andiamo avanti. Allora, perché la dieta non funziona? La dieta non è in carestia e abbondanza. Il nostro corpo, questa carestia e abbondanza spesso e volentieri è stagionale, ma può anche essere innescato tra un togliere il cibo. Io posso togliere il cibo, carestia e penso che togliendomi il cibo io riesco a ridurre gli introiti fino a tal punto di permettermi di avere, come si chiama, un dimaglimento. Il problema è che quando tolgo il cibo, devi ricordare che c'è un altro meccanismo per il quale la dieta non funziona, è la risposta dello stress, la stress response. La carestia è uno stressore, è uno stressore che noi possiamo utilizzare con digiuno e intermettenza, ma quando provi di fare la carestia pura, cioè mi fisso sulla dieta, perché la dieta è mangiare di meno per 24 ore al giorno, invece intermettenza, digiuno e intermettenza è mangiare di meno soltanto per 14 ore al giorno, 15 ore al giorno, 16 ore al giorno, utilizzando, sfruttando la sera. E poi quando cominci a mangiare non ci pensi più al cibo. Il problema è che la dieta è fisso il cibo, peso il cibo, fisso il cibo, peso il cibo, ma ci sono stati anche dei studi di starvation experiment, è stato fatto un vero e proprio studio e hanno fatto mangiare, cioè l'hanno proprio messo in carestia forte, 1200 calorie al giorno dei volontari per tanto tempo. E queste persone, questo stressore, gli ha fatto talmente fissare sul cibo che cominciavano a razzolare dentro le pattugniere, cominciavano ad aggredire le persone che magari non mangiavano l'ultimo boccone del piatto, perché siccome per noi il cibo è importantissimo, ossigeno, acqua, cibo sono le nostre tre carburanti se vogliamo dire, se io comincio a fissare il cibo con la dieta o fissare l'assenza di cibo con la dieta, il mio cervello diventa monoottico, ok? Proprio mono, cioè monoconcentrazione, fissa il cibo perché è quello che fa il cervello quando c'è un stressore. Abbiamo parlato dell'ultimo webinar del stress post-pandemico, più io fisso un problema o un problema percepito come problema, non necessita di essere un problema reale, ma se io mi fisso con la dieta, fisso il cibo, faccio caso, quando noi facciamo la dieta, cominciamo a passare da pasto a pasto. Allora, che posso mangiare per prima collezione? Mangio questo, ok. E che cosa posso mangiare al pranzo? E cominci a fissarti pasto in pasto che diventa molto, molto, molto nocivo per il metabolismo, perché l'ecarestia abbassa il metabolismo, perché l'ecarestia dice al mio corpo, sai che ti dico, poco cibo risparmia le nostre grassi. Che cosa succede in inverno? Ci ingrassiamo perché attavicamente non c'erano supermercati, il nostro corpo è un chilo pari tre più pesanti in inverno, farci caso, chilo, due chilo e mezzo. Non è perché hai mangiato a Natale e non è perché, per nessun altro modo, è che il corpo in inverno stagionalmente incassa più grassi, ok? Quello è l'ecarestia. In estate siamo più leggeri perché il grasso è un termocoperta, noi non dobbiamo surriscaldarci in estate, così il nostro corpo si brucia un po' di grassi perché ha bisogno di essere più leggeri, ok? Ci riduce la fame perché non dobbiamo avere tanta tanta energia perché non ci serve, ok? Il metabolismo più veloce in estate è perché c'è cibo dappertutto, c'è cibo nei campi, cibo sugli alberi, frutti di bosco, frutto sugli alberi. Infatti il corpo dice, beh, siccome c'è abbondanza non ho bisogno di mangiare sempre perché non mi devo portare avanti perché tanto cibo c'è. Per questo la dieta non funziona, scientificamente provate di non funzionare e l'altra cosa è che la dieta, intesa, come dieta classica, prima o poi finisce. E quando finisce, che cosa succede? Rischiate di aver abbassato talmente tanto il metabolismo in minuto che rimangiate, rincassate le calorie o i chili con interessi. Allora, diete verso il digiuno, diete contro le calorie, fisse un problema, il cervello comincia a pensare esclusivamente al cibo e ti aumenta la fame, diventi famelica, diventi ossessivo e purtroppo ti abbassa il metabolismo. Pesi gli elementi, rinuncia tutti i cibi preferiti perché sei in dieta, non puoi mangiare i zuccheri, non puoi mangiare la pizza, non puoi mangiare un fritto, fissi il cibo e vivi a stenti. Il digiuno invece controlla solo l'orario, ok? Devi solo controllare l'orario. Dopodiché non pesi più niente, mangi quelle che preferisci entre le ore delle tue finestre di nutrimento, ok? E gestisci diversamente la tua giornata, perché dopo l'inizio di digiuno e l'intermettenza, che può durare, secondo me, tre o cinque giorni, ok? Dopo che abbiamo fatto queste tre o cinque giorni di digiuno e l'intermettenza, diventa abitudine, ok? Potresti patire la fame o morse dalla fame per i primissimi settimane, ok? Dopodiché, non settimane, per i primissimi giorni, ma quando è passato, è passato e diventa semplicemente un'abitudine. Io mangio dal mezzogiorno alle otto, più o meno, ok? Ed è molto semplice. E poi la cosa bella del digiuno e l'intermettenza è ogni tanto non devi neanche mangiare dal mezzogiorno alle otto, devi mangiare dalle nove fino alle nove, cioè perché impareremo nella guida. Se noi vogliamo invecchiare bene, dobbiamo smettere di provare di vivere, cioè, abitudini sì, costruzioni no, abitudini sì, mi alleno tutti i giorni, a volte di più, però devo avere sempre questa elasticità, ok, di dire oggi no, oggi sono stanca, oggi ho la festa di compleanno da mia figlia, oggi ho qualche cosa che mi porterà fuori dalle mie, diciamo, abitudini, ma il giorno dopo rientro nelle mie abitudini, perché quando noi abbiamo il terrore di qualsiasi cosa, qualsiasi cosa che l'allenamento o non allenamento, la dieta o non la dieta, essere in ordine, cioè prima o poi spezzi perché qualsiasi stressore che è percepito come una vera e propria costruzione al livello del cervello, prima o poi avrà la colpa di coda e il corpo rifiuta. Così io con la guida voglio semplicemente aiutarti a diventare un po' più abitudinari con le cose che sono positive per il vostro corpo, ma con rilassatezza, ok, non dobbiamo essere soldati, dobbiamo essere realistici e proviamo, è un minuto che scendiamo nella calma del controllare il nostro benessere, entriamo nella calma che ogni cosa che faccio mi aiuta a vivere meglio e le vediamo con l'ottica, non per essere fighi, ma per essere vivi e energetici e pieni di verba e un altro paio di cose. Così, ripeto, la dieta è uguale a carestia, quando c'è una carestia il metabolismo si abbassa, l'appetito che è legato alla ghirlina e alla leptina si inalza, i grassi corporei vengono trattenuti, ok, e i grassi corporei potrebbero prima o poi, se superano certi livelli, possono diventare proprio infiammatorio nel corpo, ok, troppo grasso diventa infiammazione infiammazione nel corpo, l'infiammazione poi comincia a creare citochine, le citochine aumentano il cortisolo, il cortisolo è un catabolico che comincia a mangiare i muscoli e a depositare più grassi e liquidi sul corpo, cortisolo, cortisone, cortisolo, cortisone, chiunque che ha fatto un ciclo di cortisone sa che si ingrassa, vedi dove sto arrivando. Allora, digiuno è un'intermettenza, non è null'altra di una finestra dove non mangio e una finestra dove mangio. Cominciamo con 13-11, vuol dire se io ieri ho smesso di mangiare alle, per essere precisi, ho smesso di mangiare alle 20, giusto? Alle 20 perché ho fatto la puntata fino alle 19, sono tornata a casa, parcheggiata, ho mangiato una cosa perché sono andata in teatro ieri sera alle 20, vuol dire che non dovrei con 13 ore di digiuno mangiare fino alle 9 di stamattina, cosa che non ho fatto perché io faccio il digiuno un po' più lungo, però per partire partiamo con 13-11 perché è la cosa più facile, dobbiamo non partire in quarta, ricordate il tuo corpo, il tuo set point non vuole nessuna gestualità aggressiva perché qualsiasi attacco frontale alla mia strada di vita sarà percepito come uno stressore, un attacco al mio cervello. Il mio cervello per difendermi mi aiuta a gestire la minaccia. Ok, così se io parto in quarta dicendo oggi al mio alleno per otto ore, non mangio più niente e faccio 16-8, il mio cervello direi ma che sei matta, ti stai per ammazzare, non è vero che ti stai per ammazzare, però mi è percepito come tale per il tuo cervello e il tuo cervello ti protegge. Così, la nostra prima finestra di digiuno e intermettenza sarà 13 ore di digiuno e 11 ore di nutrimento. Dentro il nutrimento io getto la spugna perché la dieta, intesa come fa bisogno calorico del tuo corpo in sali minerali, in proteine, in carboidrati, in grassi sani, deve essere detta dal tuo nutrizionista, dal tuo diatologo perché cambia da persona in persona, cambia per il sesso, cambia per l'età, cambia per la tipologia, la quantità di sport che fai, cambia per la tua altezza, per il tuo peso stesso, cioè un uomo di due metri di altezza avrà un fabbisogno calorico diverso di me che sono alto 1,73 m, ok? Per questo è importante che ti rendi conto che digiuno e intermettenza non è un'idea, è semplicemente una finestra dove poggerò tutto quello che devo mangiare entro quella, quella diciamo finestra di nutrimento. Altre cose, state attenti di non esagerare con digiuno e intermettenza perché ci sono persone che mettono delle diete molto restrittivi su digiuno e intermettenza, cominciano a fare digiuno dentro digiuno e protrare una digiuno esagerata, quelle che sono soltanto all'acqua, soltanto proteine, soltanto questo, soltanto quello. Prima o poi cominciano a vedere che hanno caduto dei capelli, cominciano a avere perdite muscolare, per gli uomini possono essere in potenza. Non è che non mangiare fa bene al corpo, noi stiamo parlando di mangiare soltanto durante certe ore del giorno, in quelle ore devi mangiare tutto quello che serve al tuo corpo per aiutare il metabolismo, energia, processi fisiologici, ormonali, energetici e via vicenda. Allora, i benefici di digiuno e intermettenza, perditi di peso, perché perderai peso, però io non faccio digiuno e intermettenza per perditi di peso, mi aiuto a regolare il mio peso perché a me piace mangiare e io lo trovo molto bello perché con digiuno e intermettenza se voglio mangiare un pezzo di torta lo mangio con zero e ripeto zero senza di colpa perché dentro la mia finestra di nutrimento la posso mangiare perché sto facendo digiuno. Maggiore concentrazione perché digiuno e intermettenza è percepito dal cervello come un minaccia, però una minaccia positiva perché per una brevissima periodo di tempo quando faccio digiuno il cervello dice cerca cibo, dove c'è cibo? Cerca cibo, diventi più concentrato, ripeto, ma sempre senza esagerare, mi raccomando. Riduzione di infiammazione, infiammazione è il primo problema quando vogliamo parlare di inflamaging, infiammazione che porta all'invecchiamento, inflamaging legato a infiammazione, infiammazione è quella che addirittura l'infiammazione ti dà dolore articolare, zucchero crea infiammazione nel corpo, io ovviamente ho l'articolazione come tutti quanti, dopo 50 anni 80% della popolazione avrà un rischio di artrite, artrosi, 80%, quasi tutti in pratica. Interessante che sono in quaresima e in quaresima ho tutto zucchero e sale, non aggiungo sale a niente, se sale stava già nella pietanza va bene, ma ho tutto lo zucchero, lo zucchero è un grandissimo infiammatorio, infiamma tantissimo, oh non c'è più dolore articolare, è sparito, ok? L'infiammazione è qualcosa che riduce la qualità del sonno, riduce l'efficacia del cervello, aumenta i rischi di demenzia di Alzheimer, aumenta problemi coronarie, aumenta diciamo le placche coronarie, cioè infiammazione nel corpo non la vogliamo, ha anche il rischio di diabete tipo 2. Aumenta la GH, l'ormone della crescita. Quando mangiamo e abbiamo tanti 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 picchi di insulina perché mangiamo, 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 la GH rimane bassa. La GH, l'ormone della crescita è molto importante per mantenere sano e salvo la muscolatura, però anche qui ricordate che non volete mai troppo di niente, non vuoi neanche troppo GH. Uno dice, ah ho trovato questo ormone che stimola la GH. La GH è un ormone che fa crescere anche le cellule nocive. Io, quello che sto provando di farvi capire con la guida, dobbiamo arrivare a una sana convivenza di tutto, migliorando la qualità della vita attraverso la nutrizione, integrazione, movimento, digiuno e intermettenza, qualità del sonno, ma senza esagerare. Non c'è nulla, cioè omiostasi nel corpo vuol dire questo, equilibrio. Qualsiasi cosa iper o ipo è un problema per il corpo, ok? Per questo non vogliamo, cioè cortisolo non è una cosa cattiva. Tutti parlano, oh cortisolo, tremendo il cortisolo, devo ridurre il cortisolo. Senza il cortisolo non ti svegli la mattina, ok? Non avresti a casa, sareste talmente stanco, non sapresti come metterti un piede di fronte all'altro per arrivare in ufficio. Il cortisolo è importante quando devi essere in auge, cioè la mattina. Non mi serve il cortisolo in pomeriggio, ok? Però il cortisolo di per sé non è una cosa cattiva, anzi, ok? Così proviamo, io spero di aiutarvi a capire che c'è un equilibrio, possiamo trovare l'equilibrio con un pizzico di ironia, con tanta rilassatezza e cambia la vita. Ma c'è il cambio della vita, perché o perché di formazione, diciamo, professionale, o per la mia età, ho passato la voglia della dieta che funziona, ho passato le fads, le mode, ok? E adesso sono in un momento della mia vita con tale semplicità, ho tutto quello che voglio del mio corpo. Ho energia, dormo bene, ho il mio peso corpo come voglio e sono in menopausa. Sono in menopausa da quando ho 43 anni. E comunque il mio fisico non sembra di essere in menopausa. Allora è questo che voglio dire. Però lo faccio tutto, ma non ci penso più. Cioè non è che io adesso dico, questo pranzo devo mangiare. No, ma non ci penso proprio. Dico, adesso devo mangiare. La cosa bella di digiuno ad intermettenza è che dimentichi di mangiare. Poi ti devi ricordare che devi mangiare, ovvio, ovvio è molto importante. Ogni tanto c'è anche, per io in questo momento sono le 10.53. Io non ho morsi di fame, non mangio da ieri alle 8. Sono già una finestra di 13, 14, giusto? 12 ore alle 8, 13 ore alle 9, 14 ore alle 10. Sto andando su 15 ore e non ho senso di fame. Ok? Perché ovviamente pratico digiuno ad intermettenza da diversi anni, da 2016. Però ci arriverete anche voi. Potenzia del sistema immunitario fondamentale. Potenzia anche livella. Cioè, anche qua, anche il sistema immunitario, se è troppo basso, ho le difese immunitarie ridotte e posso prendere le mali di stagione. Se è troppo attivo al sistema immunitario, potrei avere problemi di autoimmuni, dove mi attacco me stessa. No, no. Ok? Così, quando diciamo potenzia il sistema immunitario, possiamo dire che lo livella, lo regolarizza, lo fa diventare, diciamo, attivo, appunto, giusto. Rallenta il processo di invecchiamento. La cosa che mi interessa molto di più. Digiuno ad intermettenza aiuta il cervello. Protegge da demenzia e dall'Alzheimer's. Aumenta l'autofagia. Riduce resistenza all'insulina e leptina. Resistenza all'insulina e al percursore di diabete tipo 2. E il problema di leptina. Leptina è legata al metabolismo e appetito. La leptina è un ormone che viene prodotto dal nostro riservo di grasso. E quando abbiamo le riservi di grasso giusto, ok, il rapporto equilibrio del peso corporeo, è un giusto rapporto tra massa magra e massa grassa. Il grasso ci serve perché ci aiuta a produrre ormoni. Una donna troppo magra perde il ciclo, ok, così. E il colesterolo serve per produrre gli ormoni. Il colesterolo non è cattivo. L'eccesso di colesterolo che è cattivo. Dobbiamo avere il bilanciamento dall'HDL e LDL. Che capisci dove voglio arrivare? Aumenta l'autofagia. L'autofagia è un nuovo campo molto importante per la longevità. per la salute del corpo, anti tutte le cose cattive, che non mi piace parlare delle cose cattive, perché ovviamente se ci sono grandi problemi, ci sono sempre i medici che devono parlare assai meglio di me su queste cose. Ma possiamo aiutarci a vivere meglio, aiutarci a promuovere uno stato di salute nel corpo, questo sì. Ok? Aiuta a riparare i problemi digestivi, perché se io ho un problema di una porosità intestinale, che è una dispiosi intestinale, ok, o candida intestinale, la candida intestinale produce zuccheri. E zuccheri nel mio intestino, non perché io sto mangiando zuccheri, ma perché il mio microbioma sta producendo zuccheri, io mi ingrasso e non ho neanche la godreccia di mangiare la torta. Non è piacevole questo, ok? Così, se io ho un problema digestivo, dando indigiuno e intermettenza, do il tempo, sia l'autofagia che il digiuno, di permettere al mio corpo di riparare i danni. Invece se sono sempre indigestione, sempre indigestione, sempre a processare cibo, mio povero viscere non riescono ad essere integri. Allora, digiuno e intermettenza ho tre. Time restricted eating. Che mi piace di più, perché digiuno e intermettenza dà la parvenza che non dobbiamo mangiare più. Invece time restricted eating vuol dire mangiare in una fase ristretta, ok? Ristringo le mie finestre di nutrimento e lascio a digiuno il resto delle ore perché ci aiuta su diversi fronti. Allora, una finestra di nutrimento o digiuno, ok? Ricordate che quando faccio digiuno e intermettenza ci sarà un momento durante l'acqua del giorno dove mangio! Non sono sempre a digiuno, ok? Mangio durante l'acqua del giorno e tutti mi chiedono quando lo fai digiuno e intermettenza? Io lo faccio tutti i santi giorni. Perché? Puoi sentire questi numeri. 13, 11, 14, 10, 16, 8, 5 e 2, ok? Allora, 13, 11, 14, 10, 16, 8 sono 13 o 14 o 16 ore a digiuno. E l'altro numero, 11, 10 e 8 sono le ore di nutrimento. Cominci con 13, 11 almeno per una settimana o due poi passi a 14, 10 e via vicenda perché così ti inserisci piano piano nel meccanismo di digiuno e intermettenza. Si è visto da Nurses Study di Harvard se non sbaglio, posso sbagliare che con 13, 11 riduce i rischi di cancro al seno pari al 30% solo facendo 13, 11 perché aumenta l'autofagia che è un'autopulizia automangiarsi le cellule cattive e ci aiuta a rigenerarci le cose positive e a nientare o smantellare le cose cattive nel nostro corpo perché siamo sempre pieni di cose cattive nel nostro corpo. Ma se il nostro sistema immunitario sta funzionando bene se il processo di autofagia riesce a riconoscere le cellule rogue un rogue vuol dire che va a vamba e non fa parte del nostro macrocosmo o microcosmo fisiologico il nostro sistema immunitario lo attacca, lo uccide lo finisce la cosa importante è di non avere un terreno fertile per le malattie o un terreno fertile per il processo degenerativo dell'infiammazione e dell'invecchiamento nel corpo e lo possiamo fare con digiuno e intermettenza. 5-2 invece è mangio normalmente per 5 giorni e per 2 giorni sono a un digiuno molto ristretto ok? dove veramente si mangia pochissimo 500-600 calorie due volte a settimana. Io lo trovo poco praticabile perché ritorno sul discorso della dieta perché la dieta non funziona la dieta non funziona perché il cervello percepisce un minaccia la minaccia è perché sento cioè il minuto siamo legati al cibo e chiunque ha fatto mai una dieta facci caso hai fissato il cibo cioè o diversamente ti sei trovata al terzo bar quinto giorno di fronte al frigorifero a svuotarlo a saccheggiarlo apri il frigorifero e cominci a fare dei miscugli che tu non avresti fatto prima della dieta cominci a prendere maionese e nutella e le metti insieme sopra le olive perché il tuo corpo cerca calorie grassi e ti fa ti costringe di mangiare per questa anche se si fa anche digiuno con 5-2 lo sconsiglio ma appassionatamente lo sconsiglio sconsiglio perché se noi cominciamo a fare digiuno intermettenza finestra a mangiare finestra a non mangiare a un certo punto diventa tuo e io voglio che non fissate sulla dieta la dieta ovviamente la nutrizione è fondamentale non sto dicendo che la nutrizione non è fondamentale ma la dieta intesa come guarda l'elenco di quelle che posso mangiare e non mangiare innesca una risposta di stress nel cervello e cominci a fissarti solo il cibo io ho bisogno che fissi la bellezza delle vite la positività delle vite i bambini che sorridono le farfalle che volazzano e l'allenamento ok e per fare questo abbiamo bisogno che diventa un'abitudine di digiuno e di intermettenza così io vi consiglio con tutto il mio cuore ho 13-11 che puoi scendere a 15 no 14-10 o 15-9 o 16-8 e ci arriverai senza problemi ok e durante quella finestra di nutrimento la puoi mangiare qualsiasi cosa allora Foodagram questo che vediamo qua è stato creato da dottor Satchananda Panda Satchananda Panda è la Hoya in California c'è questo lui è un medico che ricerca tantissimi ritmi circadiani geniaccio l'ho già menzionato in mio libro il metodo però questo Foodagram è molto interessante perché lui aveva fatto un'app che dice My Circadian Rhythms e aveva non so quante centinaia di migliaia di persone ha preso su questo app e lui ha cominciato a chiedere a tutti quanti di fare il Foodagram anziché Instagram dicendo fotografatevi il cibo che mangiate e ha uploadato su il suo app e lui ha cominciato a vedere che le persone mangiavano 15 ore al giorno cioè quasi sempre quasi sempre e sapete meglio di me che il mio paese nativo è pieno di obesi ok perché se noi mangiamo sempre non permettiamo il nostro corpo di andare in autofagia autofagia vuol dire self eating mangiandosi si mangia da solo e la verità è un processo autoriparatrice delle nostre cellule che entra in autofagia solo in due no non solo in due adesso dicendo una sciocchezza ma anche in digiuno o restrizioni caloriche ok però le cose che restrizioni caloriche purtroppo abbiamo visto può innescare la risposta delle diete riducendo il metabolismo invece digiuno e intermettenza che è veramente facilmente tollerabile facilmente da mettere in pratica stimola l'autofagia giornalmente e questo è molto importante perché dobbiamo dare tempo alle viscere al cervello e a tutte le cellule di corpo di rigenerare e fare una sorta di pulizia una pulizia dire ok tu si tu no tu sei vecchio via facciamo come li fai in casa no quando ti devi fare il cambio di stagione apri l'armadio e vedi cose che non hai metti più le cose che sono impolverati le cose che magari sono state mangiate dalle farfalline la come si chiama le moths e ti dice ok via buta 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 e fai spazio e quando fai spazio puoi mettere nuove cose nel nostro corpo sarà nuove nuove cellule noi rigeneriamo sempre il nostro cervello rigeneriamo la pelle la pelle quando noi perdiamo la pelle sotto sta crescendo nuova pelle sotto sta crescendo nuova cellula e questo succede sempre noi stiamo sempre rigenerandoci però man mano che invecchiamo questa rigenerazione o si rallenta o si comincia a replicare in modo errato e cominciamo ad avere un'applicazione del DNA errato che poi potrebbe produrre cellule che sono danneggiate e nocive per nostra salute così l'autofagia è un processo naturale durante il quale avviene la pulizia delle cellule corporee a tal scopo le sostanze danose e altri rifiuti molecolari e vengono riciclati il Nobel per la medicina del 2016 che stiamo parlando sempre di tecniche e di diciamo concetti molto innovativi ok è dedicato all'autofagia il vincitore del premio ha studiato questo fenomeno per poter combattere in futuro diverse malattie ok noi lo useremo per antiinvecchiamento l'autofagia e il digiuno intermettente sono due concetti collegati durante il digiuno il corpo si avvale delle proprie riserve di energia e l'autofagia ha il compito di mettere a disposizione i nutrienti necessari in una situazione di emergenza quando sono per un periodo limitato di digiuno protratto il corpo che cosa fa? fa prima vediamo che possiamo riciclare siete mai tornati a casa o vai in casa a vacanza non hai avuto ancora tempo di fare la spesa apri e vedi che c'hai di solito pasta o riso olio sale e se sei fortunato qualche odore che può essere o cipolla o aglio e dici stasera che cosa mangiamo? mangiamo quello che c'è mangiamo facciamo un pasta aglio olio peperoncino prima che andiamo avanti e il nostro corpo fa la stessa cosa quando noi siamo in un digiuno protratta il nostro corpo dice puliamo prima la cambusa andiamo a pulire e smantella quella che può smantellare e riutilizza gli aminoacidi per la costruzione e aiuta il corpo di rigenerarsi nutriendosi da se stesso questo è il primo passaggio e poi ovviamente se viene protratta diventa una cosa nocivo però per un periodo limitato estremamente positivo per il corpo perché ci lascia soltanto le cose luccicante nuove pulite per essere diciamo un corpo che funziona al meglio e senza intasamenti alcuni studi partono dal presupposto che l'autofacia possa rallentare il processo di invecchiamento e là dove voglio arrivare con questa guida la parleremo molto dell'autofacia perché aiuta a ridurre l'ossidazione l'ossidazione e problemi radicali liberi stabilizza i geni questo è molto importante perché vedremo con la guida quanto è importante questo flusso delle onde circadiane dei nostri ormoni perché quello è il segreto di invecchiare bene e senza problemi di sonno di energia di muscolo di collagene e potrei andare avanti ok aiuta a convertire i nutrienti in energia aiuta a ridurre i detriti metabolici dell'organismo migliore l'infiammazione così riduce l'infiammazione aiuta a equilibrare il sistema neuroendocrino questo è molto importante per rallentare i rischi di demenzia o di alzheimer riduce il processo di invecchiamento aiuta a trovare queste rogue cells e distruggerle perché rogue cells sono quelle che non vogliamo con le grandi C aiuta a fortificare il sistema immunitario che è ovviamente importantissimo in tutto allora rigenerazione come il nostro corpo si ricostruisce almeno dai 365 giorni noi ricostruiamo DNA pelle fegato veramente cioè noi ricostruiamo tutto il corpo durante la nostra vita e per ricostruire dobbiamo avere spazio per ricostruire il nuovo ok così non abbiamo intasamenti e dall'altra parte l'autofagia ci aiuta a recuperare il necessario ok e fare spazio del vecchio recuperare il necessario sostenere la rigenerazione sana dove il DNA che viene replicato è trasmesso in modo corretto così non perdiamo pezzi non abbiamo diciamo cambiamento a livello cellulare che possono creare i problemi legati al nostro cervello e tutto quello che ci interessa per invecchiare bene allora io vi stavo parlando di questi ritmi e questa è una cosa molto interessante che mi è venuto a meno che l'ultima volta che ho fatto il webinar su digiuno e intermettenza con voi crononutrizione parleremo tutto durante queste guide ma è legato proprio a queste onde ok la oscillazione dei ritmi circadiani ormonali si riducono a causa dell'invecchiamento si appiattiscono proprio e questo appiattamento di questi messaggi cioè il nostro corpo ha ragione in bianco e nero ok ho un ormone che accende e un ormone che spegne cioè il cortisolo la melatonina abbiamo l'insulina e il glucagone e abbiamo la GH il cortisolo abbiamo tanti ormoni che quando uno nausea l'altro è piattito ok e deve stare così perché io dovrei avere tanto il cortisolo la mattina e tanta melatonina la sera perché quando sono sveglia devo essere sveglia quando devo dormire devo dormire perché il processo di dormire è fondamentale per invecchiare bene fondamentale fondamentale non posso neanche dirlo quanto penso che è importante il sonno ma quello che ho visto è che quando si guarda le curve su digiuno e intermittenza si vede che c'è una differenza di questi ritmi circadiani perché quando cominciano a piattire il corpo non capisce dove deve girare non è più chiaro cioè avete mai trovato un bivio nella vita dove entrambi le soluzioni potrebbero essere giusti e non riesci a prendere nessuna delle due perché dice se vado a destra avrò questo 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 se vado a sinistra avrò questo 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 e non puoi fare tutti e due perché magari un lavoro o magari amoroso o magari cambiare città o magari un viaggio dove entrambi le risposte sono giuste e tu hai non riesci a prendere la decisione perché tecnicamente non c'è nulla di cattivo né l'uno all'altro e la situazione non è chiaro i nostri ormoni man mano che invecchiamo diventa così il nostro corpo dice ma devo stare sveglio o devo dormire devo stare sveglio o devo dormire devo bruciare i grassi o devo depositare i grassi o devo bruciare il zucchero aspetta e quello è il problema e quello è il problema noi invecchiando diventiamo nebulosi diventiamo grigi tuo corpo ama bianco e nero ecco perché è importante attraverso lo sport crono nutrizione crono sportivo dove posizioniamo e a che tipologia di allenamento intensità noi con queste guida ragazzi saranno settimane di webinar io non so se arriveremo fino a Natale con questi concetti ma sono talmente importanti il vostro benessere che andremo a fondo insieme e man mano che vado a fondo con voi sto stendendo a parte questo libro che diventerà la guida diventerà mio nono libro perché qualcosa è importante perché noi con il digiuno intermittenza siamo in grado a migliorare le curve le curve allora io voglio farvi vedere questo il paziente anziano vedi questo curvo qua scusate perché è piccolo e ho la luce in faccia fammi allargare fammi allargare ok qui abbiamo profilo sano di melatonina questa qua la nera ok un giovane avrebbe questa curva mezzanotte comincio a sentirmi stanco vicino alle 10 alle 11 dormo bene e poi avrò più o meno in questa zona cala verso le 4 o 5 di mattina la melatonina perché entra e oggi cosa cortisolo cortisolo comincia comincia a essere leggermente dormi veglia ti svegli prendi un caffè e parti con le cortisolo la paziente anziano che vediamo qua è appietito vedi che non ha la curva della melatonina ovviamente questa è un'esagerazione però per farti capire queste curve del nostro benessere sono veramente importante e la cosa più importante di tutti è che noi possiamo assolutamente farli tornare in auge con il nostro digiuno e intermettenza per farti capire questa è un'altra curva legata al ciclo ovarico ok noi sappiamo tutti abbiamo 28 giorni questo ciclo e durante questo ciclo abbiamo cioè abbiamo prima l'estrogeno poi il gestorone poi si produce il follicolo poi il follicolo si matura e poi avremo il nostro ciclo ok e tutto l'endometrio cambia in spessore perché poi la dobbiamo liberare però per farti capire come ragione il nostro corpo questi flussi temporali che possono essere circa di anni stagionali mensili sono di fondamentale benessere di essere giovani così per finire il nostro primo webinar della guida e sulla nostra proprio spiegazione della nostra digiuno intermettenza è questa se notate bene anche questo diagramma sempre di dottor Panda vedi qua sotto l'uomo c'è questo questo onda che magari tu vedi vedi questi dici ok perfetto questa è la persona che ha fatto la finestra neanche tanto lungo se non sbaglio sono 15 9 non mi ricordo esattamente quanto sono però c'è la finestra le persone che hanno fatto digiuno intermettenze sono dimagriti hanno rallentato infiammazioni nel corpo e sono riuscite a rallentare il processo di invecchiamento partiamo con 13 ore di digiuno e 11 ore di nutrimento ok molto facile da calcolare calcolate l'ultimo boccone che mettete in bocca stasera qualsiasi ora sia se sono le 21 comincerai domani a mangiare alle 10 se alle 8 comincerai a mangiare dalle 9 che cosa puoi mangiare durante la mattina caffè tè tisana o acqua tutto senza zucchero ok quello che ci butta fuori dalla finestra di digiuno sono proteine e zuccheri grassi no però proteine e zuccheri si ovviamente non mi metto a mangiare qualcosa di molto grasso però un po' di grasso non succede niente stiamo attenti di bere soltanto tisana e acqua e poi cominciamo nella nostra finestra di nutrimento di mangiare normalmente però oltre a vedere le persone che mangiavano ininterrottamente erano più vecchi più grassi più diabete più resistenza all'insulina più resistenza la leptina e questa curva sotto questo per me è stato veramente una lampedina che mi ha illuminato la testa facendo l'ultimo webinar e la mia ricerca futuro perché è legato ai ritmi circadiani i ritmi circadiani sono legati al benessere dormire forza concentrazione protezione dalla demenzia senile protezione per rimanere limpidi io ho una madre che ha la demenzia galopante non è alzheimer è demenzia bellissima donna magrissima potrebbe probabilmente fare anche la spaccata ma non ci sta con la testa e queste cose io non so voi ma io voglio invecchiare bene dappertutto ok non dobbiamo essere magri dobbiamo essere sani ok così con questo digiuno in intermettenza ripeto 13-11 partiamo la prossima settimana parleremo di crononutrizione continueremo con il digiuno in intermettenza continueremo ma dove stiamo arrivando è questa mantenere queste curve in auge per più tempo possibile per migliorare la qualità della vita e invecchiare bene perché i giovani sono bianco e nero i vecchi sono grigi dormono di meno hanno meno massa magra hanno meno forza meno concentrazione meno collagene potrei proseguire ma noi grazie a certi fattori che scopriremo insieme in questi webinar dedicato alla guida che sto per stendere e sto stendendo onestamente ho già fatto la prima parte noi andremo avanti a scoprire come rallentare il processo di invecchiamento mantenere il nostro set point basso parleremo anche di set point che vuol dire il nostro punto peso mantenere le collagene in funzione e anche l'integrazione perché io comunque oltre digiuno intermettenza uso gli integratori per sostenere processi fisiologici che mi aiutano a rimanere giovane con il metabolismo attivo però se posso dirvi è questo che ci interessa non il peso del soggetto ma questo ritmo qua vi garantisco questo è il segreto di invecchiare bene vi ringrazio tantissimo per essere con me con questo nuovo viaggio sono molto gasata perché amo studiare e amo condividere le mie diciamo ricerche con voi perché veramente ti fa vivere meglio passate una giornata speccacolare e saranno mesi a venire che affronteremo tutto tutto quello che possiamo affrontare approfondendolo per rallentare il processo di invecchiamento nel nostro corpo e procederemo insieme per diventare sempre più forti e anche più equilibrati che è una cosa importante va bene baci dalla Jill e vi aspetto la prossima settimana con il prossimo webinar e vi aspetto grazie a tutti